Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali, mio padre preside, il classico padre padrone. È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per sempre, ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere. Nel salotto di Maurizio Costanzo, Loredana Berteri percorre la sua infanzia, il difficile rapporto con i genitori, lo strettissimo legame con la sorella Mia Martini, di cui non smette di piangere la scomparsa. Con mia madre avevo un rapporto difficile. Si era sposata a 15 anni. Era un'altra bambina, non era la mamma. Con Mimi eravamo molto più insimbiosi che con gli altri, ci sembravano degli estranei. A 13 anni siamo andate via di casa. Abbiamo patito moltissimo, la fame anche. Vivevamo con poco, non mangiavamo, c'era un bar che ci dava i tramezzini gratis, io questa cosa non la posso dimenticare. Chi era Mia Martini? Una pazza. Faceva tutto senza pensare, qualunque cosa, non è vero che il tempo cancella tutto perché non cancella niente. Io ce l'ho dentro, quando è morta una parte di me è morta. Mi manca disperatamente, ho dei rimorsi, di non aver detto abbastanza ti voglio bene, non averla stretta mai, non averla mai abbracciata e averle detto ti voglio bene anche 10.000 volte. Non l'ho fatto. Nel suo passato ci sono stati grandi amori, ma da qualche tempo Loredana non è più legata ad altri uomini. Non sono innamorata da 25 anni, 30. Son casta e pura. Ho sposato Borg perché mi sono detta voglio dei figli. Io che di solito non faccio domande. Dopo 4 anni di matrimonio gli ho detto, era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da 4 anni, voglio dei figli. Lui, insieme alla madre, ha detto assolutamente no. I figli solo di sangue svedese. Sollecitata da Costanzo, la cantante ha ripercorso il periodo in cui ha vissuto in America, durante il quale ebbe la fortuna di conoscere Andy Warhol. Il periodo americano per me è stata una manna dal cielo discograficamente, perché conoscevo Andy Warhol. Lui pensava fossi la barista di Fiorucci sulla 53esima, io ero la madrina di tutti i Fiorucci aperti nel mondo e quindi stavo lì il pomeriggio. Era un tinello con una bellissima macchina da caffè e avevo imparato a usarla bene. Alle 5 del pomeriggio, sempre alle 5, arrivava Andy Warhol che mi ordinava un caffè oppure un cappuccino. Ero un'amica che lo capiva perfettamente. Mi chiamava Pasta Queen, per lui facevo di tutto. Adorava come cucinavo, voleva sempre cucina italiana.